amici bentornati sul canale 9000 giri elaborazioni auto sportive oggi volevamo riprendere un argomento che abbiamo trattato centinaia di volte io praticamente tutti i giorni parlo principalmente dell'argomento che riguarda l'utilizzazione dei dati elettronici e le finalità lo scopo del perché uno deve mettere le mani a un componente elettronico e quali sono appunto i punti di di guadagno i punti di arrivo allora nel discorso come ho fatto tante volte su tutte le macchine recente costruzione ovviamente non ci sono più i carburatori ma tutta la gestione elettronica del motore avviene tramite un cervello che è contenuto all'interno di una centinaia elettronica che ha tanti componenti e che vengono impostati con un software che viene impostato in maniera specifica per ogni singolo modello dalla casa ovviamente questo software devo temperare a determinati criteri che sono quelli che la macchina deve girare in posti completamente diversi con temperature diverse pressioni diverse carburanti diversi una macchina che gira in svezia ovviamente deve girare alla stessa maniera in marocco con temperature in estate in inverno con temperature e sbalzi termici di 50 70 gradi tanto per fare un esempio quindi tutto quello che viene sviluppato a livello software è una media è un discorso di media per poter far funzionare la macchina in maniera ottimale in condizioni diverse in condizioni totalmente diverse tra un posto e l'altro il fatto di avere questa questa sorta di valore medio ci permette di lavorare per andare a fare delle ottimizzazioni cioè tutti i componenti soprattutto la parte elettronica questo è principale ma anche tutti i componenti meccanici ovviamente sono dimensionati in maniera tale da poter essere diciamo da poter sopportare o una un incremento di potenza o in questo caso da essere diciamo ottimizzati a livello di prestazioni quindi parlando in maniera specifica visto che parliamo di centenelle elettroniche la finalità principale è quella di andare a ottimizzare le prestazioni noi siamo contrari al termine elaborare elaborare significa andare a spingere o ottenere il massimo delle prestazioni questo è un termine che in 35 anni abbiamo sempre cercato di evitare quello che viceversa secondo noi calza più a pennello a seconda seguendo la nostra filosofia è quello di andare a ottimizzare determinate cose che siano elettroniche che siano non so l'assetto che siano l'impianto frenante non andiamo mai a fare delle estremizzazioni andiamo a ottimizzare il componente per avere una tenuta di strada migliore per avere una frenata migliore in questo caso si cambiano determinati componenti ma non si mette un impianto frenante maggiorato che stravolge completamente l'architettura della macchina e il componente tecnico che in questo caso l'impianto frenante della macchina andiamo appunto a fare delle migliorie stessa cosa stesso dicasi sul discorso delle componenti elettronici una delle finalità è quella appunto di avere più coppie più potenza sempre entro limiti accettabili non facciamo mai mappature troppo estreme non cambiamo mai come dire non entriamo mai nell'ambito delle pressioni perché poi i due componenti principali sono i valori di pressione del rail e pressione turbina che sono quelli che poi sulle macchine turbo garantiscono un incremento dei dati di coppie potenza noi questi dati quali modifichiamo entro percentuali discrete quindi non facciamo mai mappature estreme per avere la macchina più fluida avere una linea di coppie potenza più lineare togliere via quelli che sono ogni tanto dei picchi negativi dei buchi di carburazione togliere quello che è un lag iniziale che tutte le case hanno specialmente tutte le vetture euro 5 euro 6 euro 6 da adesso in da 4 5 anni a questa parte le vetture hanno veramente vengono sempre più strozzate i clienti ci dicono ma la mia macchina soprattutto macchina di piccola cilindrata non va se io metto l'area condizionata veramente faccio fatica diventano addirittura pericolose quindi senza andare a estremizzare quelle le potenze le andiamo a aumentare leggermente in maniera tale da portare la macchina a un utilizzo più razionale se vogliamo anche più sicuro perché non è che questo tipo di lavorazione serve unicamente per andare a fare le gare in pista o a vedere chi ha un'accelerazione maggiore speriamo che i nostri clienti questo lo evitino o se lo devono fare lo fanno in ambiti chiusi o in pista quindi noi diciamo sempre che è un tipo di lavorazione che va al di là di quello che è la componentistica che si può omologare andare a modificare la potenza oltre un piccolo margine non è un componente omologato però a discrezione di quello che vuole cliente noi lo eseguiamo e la finalità è proprio quella di avere una macchina più fluida una macchina prestazionalmente migliore senza andare a stravolgere sostanzialmente il comportamento e soprattutto uno degli aspetti che recentemente ci chiedono sempre più spesso e avere anche una riduzione dei consumi perché nel momento in cui io vado a ottimizzare il valore di coppia tanto per fare un esempio vado a incrementare il valore di coppia e potenza significa che la macchina a parità di velocità quindi a velocità costante uno fa una prova prima di fare la mappatura diciamo velocità costante 130 sul sul computerino di bordo in vi era indicato il consumo o in litri o in chilometri sempre velocità costante dopo aver fatto la mappa uno raffronta di nuovo quel parametro e si accorgerà che quel valore lì è sicuramente migliorato che sia poi espressi in litri in chilometri cambia relativamente poco però il valore è sicuramente migliorato dove viceversa l'utilizzo della macchina è più come dire lo spostamento della massa è più frequente per cui la velocità non è più costante per cui in città non ci sono dei grossi risparmi temi di consumi e poi ovviamente se uno in rara occasione vuole avere una guida più sportiva in quel caso pretendendo di più quindi andando oltre un determinato regime di giri chiaramente la macchina consumerà un pochino di più questo è evidente cioè i miracoli non li fa nessuno però diciamo che facendo la media dei chilometri percorsi in un anno e sentendo le opinioni come tutti i nostri clienti la maggior parte di questi ci dicono io ho avuto un beneficio anche in termini di consumi oltre che di sicurezza oltre che anche di piacere di guida perché avere la macchina un pochino più brillante chiaramente fa sempre piacere le metodologie sostanzialmente sono di due tipi questa è una centralina elettronica come ce ne sono tante una bosch è quello che vogliamo per cui noi possiamo interagire con la centralina principale o smontandola e ovviamente attaccando i pin su uno schema ben preciso leggere il programma scaricarlo modificarlo e ricaricarlo oppure più semplicemente non dipende dal tipo di macchina il tipo di centralina possiamo anche fare il lavoro spesso e volentieri senza neanche andare a toccare la centralina andiamo ci andiamo a collegare direttamente con la presa obd e leggiamo scarichiamo e carichiamo il programma direttamente dalla presa obd ovviamente tutto viene fatto con un computer con un programma particolare dove abbiamo un database di tutte le macchine dove è possibile andare a modificare il software in alternativa a questo sistema che va come ripeto a toccare la centralina principale come ho spiegato tante volte possiamo avere gli stessi risultati montando una centralina esterna riprogrammabile in questo caso è la cbox della seletron particolarmente utile per tutte quelle macchine che sono ancora in garanzia o tutti coloro che vogliono avere una gestione dell'elettronica autonoma perché come dicevo il fatto di modificare i parametri elettronici da un punto di vista pratico non è più nell'omologazione della macchina quindi se uno vuole in autonomia o perché la macchina è in garanzia quindi prima di portarla in assistenza sgancia il connettore sfila la centralina la macchina ritorna a funzionare esattamente con i parametri stock che sono caricati sulla centralina principale piuttosto che vuol dare la macchina al figlio si preoccupa che non è stacca la centralina quindi è autonomo e può gestire questa potenza in maniera differente rispetto al fatto di fare una programmazione sulla centralina principale perché li rimane e noi possiamo ricaricare il file originale però il cliente ci deve portare la macchina e noi tutte le mappature che facciamo ci teniamo in banca dati il file originale possiamo in qualunque momento caricare il file originale questo ad esempio è un suggerimento che diamo nel momento in cui vendete la macchina assicuratevi di vendere la macchina con la centralina stock o avvertite chi compra la macchina che la centralina è modificata non fate l'errore di non dire niente perché se succede qualche cosa e questo qua non lo sa si può ribalere su di voi quindi o ce la portate prima di vendere la macchina noi vi ricarichiamo il file originale o se eseguite questo tipo di procedura lì lo potete fare in autonomia sganciate la centralina e staccate i cablaggi la macchina ritorna immediatamente come prima io direi che anche per il discorso centralina spero di avervi dato queste ulteriori informazioni comunque come dico sempre se mi sono dimenticato qualcosa avete bisogno di qualunque tipo di informazione in più mi chiamate in sede 027383175 io sono in sede dal lunedì al venerdì rispondo sempre a tutti mail telefonate qualunque cosa mi chiamate io sono sempre direi sufficientemente disponibile e a disposizione basta che ci sia educazione e io sono cerco di aiutare tutti quello che vi chiediamo è consultare il sito www.nomilagiri.it soprattutto nella parte archivi elaborazione dove trovate più di 3600 schede vettura all'interno delle quali per marca trovate tutti i vari modelli delle varie case cliccate sulla campanella in basso a destra e soprattutto iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo un saluto alla prossima iscrivetevi al canale